Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro nuovo Fitness Day. Oggi vi presentiamo i nostri patine che ci aiutano a insegnare ai nostri clienti che oltre a fare il movimento è molto importante alimentarsi in maniera corretta. Come primo esempio portiamo quello dell'estrattore che è fondamentale per assumere delle vitamine e dei sali minerali in maniera ottimale. Questo avviene grazie alla spremitura freddo della frutta. Infatti come vedete stiamo elaborando un ottimo integratore naturale quindi non prodotto chimico ma naturale con delle mele, con dei limoni, con delle arance e creano un ottimo drink che può essere usato come integratore prima e dopo l'attività sportiva.